latte intero, bicchiere dei puffi e cantuccio alle mandorle che mi ha mandato il caseificio Beato Marco codice sconto, alice pizza 5% di sconto per tutti belli rustici sono rustici e belli allo stesso tempo e poi hanno un odore della madonna non sono super dolci le mandorle ci sono e come un'inzuppatina nel latte ci sta sono buoni ragazzi questo pacco durerà circa 5 minuti tutti diversi l'uno dall'altro questo è bello carico di mandorle non è duro come il marmo come quelli industriali l'unico rifletto è che qua me li mangio tutti quelli rotti non valgono lo sappiamo tutti comunque quanto cazzo è buono del latte intero buonissimi, super consigliati tutto quello che mi hanno mandato è buono così e l'abbiamo svoltato mi piacerebbe dire che fare schifo è una scelta di stile ma no mi viene proprio naturale buonissimo ma basta basta mi cerco uno piccolino ultimo per dimostrare che è veramente buono non sto scherzando è un cazzo è passato di qua la bellezza ce l'ho fatta l'ho chiuso